Belen Rodriguez cambia idea, ho capito il valore della riservatezza Sensuale, divertente e determinata, Belen Rodriguez è a tutti gli effetti uno dei personaggi della televisione italiana più seguiti del momento La showgirl argentina infatti ha avuto il grande merito di incantare il pubblico, con la sua bellezza e le sue doti di presentatrice e modella Più volte però, a causa della sua esposizione mediatica, la Rodriguez è incappata in una serie di critiche e commenti non sempre positivi, così ha iniziato a rivalutare il valore della riservatezza, importantissimo specialmente quando si sta vivendo una relazione d'amore La riservatezza per custodire l'amore, il pensiero di Belen. La showgirl argentina si è confessata ad un settimanale italiano, raccontando il momento molto positivo che sta vivendo sia a livello professionale che sentimentale Legata ormai da tempo al campione italiano Andrea Iannone, Belen ha spiegato di essersi resa conto di quanto la riservatezza sia un valore, indispensabile per custodire al meglio la sua vita privata In passato infatti, soprattutto durante la sua precedente relazione con il ballerino Stefano De Martino, la showgirl aveva più volte rilasciato dichiarazioni, anche sui social network, che erano state poi modificate o equivocate, finendo poi per colpirla nel profondo Oggi Belen Rodriguez ha fatto tesoro delle sue esperienze ed è una donna più matura e consapevole, la privacy sua e di suo figlio Santiago è un tesoro prezioso da custodire con grande attenzione Nonostante questo cambio di rotta, la showgirl argentina non rinuncia a condividere con i suoi moltissimi e affezionati fan, i dettagli della sua vita quotidiana, svelando ciò che accade durante i servizi fotografici, quali sono i giochi preferiti che fa con il figlio e altre piccole abitudini che rendono la sua vita unica Il pubblico non perdi occasione per complimentarsi con lei per la sua bellezza e per la sua forte personalità, uno degli aspetti che più viene apprezzato di Belen infatti è la sua capacità di svelare se stessa attraverso i suoi pregi e i suoi difetti, senza mai sentire il bisogno di mentire o apparire diversa dalla realtà Belen Rodriguez e il successo nell'amore e nella carriera Nonostante le numerosi voci di una presunta crisi con Andrea Iannone, la showgirl argentina sempre messo a tacere queste volte, sostenendo invece che tra e due le cose stiano andando a gonfie vele Innamorati e felici, i due fidanzati non perdono l'occasione per trascorrere del tempo insieme, anche in compagnia del piccolo Santiago Durante l'estate la Rodriguez si è ritagliata un po' di tempo per rilassarsi e godersi la famiglia, in particolare il figlio, di cui è pazzamente innamorata, la showgirl infatti si è sempre rivelata molto brava a conciliare il lavoro con le esigenze della sua vita privata I nuovi impegni di settembre testimoniano ancora una volta quanto la sua carriera sia in ascesa, sempre impegnata come modella, presentatrice e testimonial, Belen Rodriguez è diventata anche un'icona del web e sono tantissime le persone che si rivolgono a lei in cerca di consigli di stile e di bellezza, certe di venire accontentate al meglio Grazie a tutti